Ehi, guarda! Un rospo! Un rospo che suona la chitarra! Credo che sarà bello da vedere e da ascoltare! Wow! Attenzione, radiotori enormi! Ci stanno cacciando dalla scacchiera! Ehi, guarda! Un rospo! Un rospo che suona la chitarra! Credo che sarà bello da vedere e da ascoltare! Temo proprio di Sibu! Ehi, ma perché oggi tutti parlano in modo così buffo? Ma certo! Sono le zappe di un uccello! Cosa possiamo piantare, allora? Per riuscire ad arrivare al Luna Park dovete entrare nella camera delle porte! Continuate a saltellare, piccole rane! Piegatevi sulle ginocchia e restate accovacciate! Aprire tre porte, non una di più! Dietro la porta numero tre troverete ciò che cercate! Ecco! Guardate! Il Luna Park! Trovate quelle tre porte e troverete il Luna Park! Si può cantare e ballare con energia Fallo col tuo stile qualunque sia Niente oro, diamanti o zaffiri blu Perché quando canto niente può valer di più! Oro, diamanti o zaffiri blu Cantando niente al mondo può valer di più! Allora, diamanti o zaffiri blu! Allora, diamanti o zaffiri blu! Allora, diamanti o zaffiri blu!